Buon pomeriggio ragazze, benvenute o bentornate qui sul mio canale. Dopo all'incirco un mese di assenza ritorno, ma come avevo anticipato nello scorso video, sarei mancata per un po' di tempo, ma semplicemente per le vacanze estive e per una serie di impegni prima delle vacanze. Quindi ora sono tornata dalle vacanze e quindi ho deciso subito di registrarvi qualche contenuto così che almeno nel periodo finale dell'estate, quindi tutto agosto, riuscirò a caricare almeno qualche video. Non i miei soliti due video, ma per il semplice motivo che questo è un periodo super pieno come ogni periodo della mia vita ormai. Però va bene così io quando riesco pubblico senza in un certo senso mettermi dei vincoli. quindi preferisco in realtà fare in questo modo proprio per evitare che mi diventi una cosa antipatica a registrare video, in quanto è una cosa che mi piace tantissimo fare e non vorrei mai che diventasse un obbligo. Comunque, detto questo non mi perdo in chiacchiere. Come vi dicevo, sono tornata finalmente dalle vacanze. Sono stata all'incirca un mesetto fuori. Ovviamente sono tornata giù in Puglia e per l'occasione, siccome in questo periodo di assenza da YouTube e di vacanza ho fatto una serie di acquisti e ho deciso di mostrarveli in questo video che sarà una sorta di vlog haul, vi faccio vedere un po' della mia giornata ma incentriamo il tutto proprio sul mostrarvi ciò che ho acquistato nell'ultimo periodo. Ma prima di farvi vedere il tutto, vi faccio vedere che tempo si è preparato fuori. Fino adesso ha piovuto tantissimo, soprattutto ci sono stati tantissimi lampi in quanto ieri in realtà faceva caldissimo, ma anche oggi. Non lo so, c'è stata questa mutazione, però in realtà vi dirò meglio così perché il caldo, ragazze, quest'anno è stato esagerato. Adesso vi faccio vedere il tempo e poi vi faccio vedere i miei varia. Non so se riuscite a capire, ragazze, è super super scuro. Adesso sembra che i lampi e i tuoni si sono anche un attimino fermati, però questo è il cielo di oggi, è terribile. Ricordate che teoricamente siamo ancora in estate perché oggi è 19 agosto e sì, i temporali estivi ci sono sempre stati, ma in realtà così mai visti. Quindi, però vi ripeto, sono abbastanza contenta di questo perché almeno rinfresco un attimino. Allora, vi faccio vedere un po' gli acquisti che ho fatto, li ho sparsi qui sul letto. Queste cose che vi mostrerò sono tutte cosine che ho preso in vacanza. Innanzitutto ho deciso di prendere dei copricostumi diversi dal solito. Infatti ho preso questo nero che mi piace tantissimo, diamante tipo tutto ricamato e con delle trasparenze, bellissimo. E il primo invece che ho acquistato è questo qui che è più un kimono, a differenza dell'altro che è più una sorta di camicia. Invece questo qui è proprio un kimono, adesso non so come mostrarvelo. Forse era meglio farvelo vedere indossato. Così, è tutto aperto, ha poi dei nastrini per legarlo in vita. È bellissimo ragazzi, è poi super lungo, è troppo troppo bello, mi sono piaciuti tantissimo. E questi ciascuno li ho pagati 13 euro. Dagli acquisti, per quanto riguarda la parte, diciamo, superiore del costume, ho deciso poi di cambiare anche un po' i miei costumi, di acquistarne ben tre. Ho acquistato questo qui sul lilla, che è bellissimo, super comodo, super confortevole, e poi soprattutto quest'anno questi colori mi piacciono tantissimo. E poi ho acquistato quest'altro, sembra un attimino sul genere di questo lilla, ma su questo fucsia in realtà, nella videocamera non si vede bene, però è un fucsia e ha, diciamo, la distinzione rispetto a quello di prima delle coppe. Queste non sono imbottite e, a differenza di queste, invece, che, come potete ben vedere, sono abbastanza imbottite. E anche queste qui le ho pagate 13 euro ogni costume. E infine, come costume, ho preso questo qui, che in realtà l'ho preso un po' per disperazione, perché negli ultimi giorni, praticamente, ho cambiato tre costumi al giorno, per farvi capire. E quindi a un certo punto mi sono ritrovata ad avere tutti i costumi bagnati e non avere un ricampio. E quindi ho deciso di acquistarlo in una bancarella, bello, davvero bello, molto semplice. Io, in realtà, penso di non utilizzare questa mutandina, ma semplicemente perché è a vita alta e non mi piace più tanto come mi sta, ma l'ho acquistato tanto più per il pezzo di sopra, che è carinissimo, e lo abbinerò con delle mutandine che ho sempre dagli altri costumi. E quindi questi sono stati i costumi nuovi che ho acquistato. Questo qui l'ho pagato 5 euro. Poi, invece, per quanto riguarda l'organizzazione, io, anche in vacanza, non ci so stare senza organizzarmi. E quindi ho comprato questa argentina del 2022-2023. È bellissima, mi piacciono un sacco i colori, ma poi, soprattutto, anche all'interno, come è suddivisa. È una sorta di, diciamo, di diario. E, sì, mi piace, l'ho iniziata già ad utilizzare. In realtà, ovviamente, non l'ho comprata solo per organizzarmi, tra molte virgolette, in vacanza, ma l'ho acquistata proprio perché mi serviva per il 2023. Quindi ne ho approfittato, l'ho pagata 4 euro, mi è piaciuta tanto, e quindi l'ho presa. Ha anche questa mollettina per richiuderla. Adesso con una mano è un po' complicato, però è carinissima. Di oggettini sempre piccoli, poi ho comprato questi orecchini, che sono tipo oro, però, come potete ben vedere, già si sono rovinati, però, ragazze, sono quelle delle bancarelle, per un euro ci può stare. E poi, poi, vi faccio vedere degli acquisti un po' particolari, possiamo definirli. Ragazzi, sono i miei acquisti particolari che vi dicevo, dei libri. In realtà, quest'anno, a differenza degli altri anni, nel posto dove eravamo, hanno messo una bancarella grandissima, dove vendevano diversi libri, e tra cui alcuni di questi, della Newton, quindi della casa editrice Newton, facevano una super offerta, ovvero due libri in 10 euro, e quindi io adoro leggere, soprattutto al mare, e ho deciso di acquistarli. Il primo che ho acquistato è stato questo qui, il piccolo negozio delle tue fine. Ragazzi, è bellissimo, vi farà sognare. Questo l'ho tutto, tutto letto, finito già. Mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. Questo è più o meno la trama. Se vi può interessare, fate un fermo immagine. Ed è bellissimo. E poi, come secondo libro, ho preso la mia magica vacanza in Grecia, che in realtà è il libro che mi aveva interessato dall'inizio. Però poi, tra una cosa e un'altra, sono stata affascinata, in un certo senso, più da questo, e questo qui ve l'ho comprato in un secondo momento. Però sono ancora al quarto capitolo, perché poi siamo tornati dalle vacanze, e quindi non sono riuscita a finirlo. Ma, in realtà, qui non riesco a leggere molto rispetto alle vacanze, perché ovviamente il tempo è sempre molto limitato, ma in realtà mi ci soffermo molto la sera prima di andare a dormire. È una cosa che mi piace, mi rilassa, e quindi spesso lo faccio. Quindi, questi erano gli acquisti un po' più insoliti. Un acquisto da me, invece, è questa borsa nera, con questa catena, bellissima, questa pagata 10 euro. Io la amo. In realtà non l'ho comprata così tanto per, ma se mi ci mandi perché mi serviva. La maggior parte delle borse che avevo del colore nero erano tutte rovinate, quindi ho deciso di cambiarla direttamente e di prendere questa. E questa, ragazze, l'ho pagata 10 euro. L'ultimo acquisto delle vacanze, ultimi due, in realtà, acquisti delle vacanze, sono state queste scarpe presi al globo. Bellissime, ragazze, super eleganti. Dalla videocamera non rende, ma è tipo una setina. Sono bellissime, e queste pagate 24 euro. E infine, ragazze, il pezzo forte delle scarpe che ho sempre, sempre, sempre desiderato, ovvero loro, le Baffalo. Mi rendo conto che non a tutti possono piacere questo tipo di scarpe. Ieri le ho indossate per la prima volta e sono straordinarie. Io le ho trovate in super offerta da 150, erano in offerta a 70. In più ho avuto un ulteriore sconto, le ho pagate 55 euro, e sono super soddisfatta. In realtà, è errato dire che le ho pagate perché me le ha regalate il mio fidanzato, però bellissime, stupende, le userò moltissimo. Unica cosa che chiedi le ho indossate. E stranamente mi hanno fatto male qui al piede. Forse devo indossarle con delle calze più doppie. In realtà, ragazze, gli acquisti non erano solo quelli che vi ho mostrato. Ho delle cose di Shein da mostrarvi. I giorni vi faccio un altro haul delle cose che ho acquistato da Primark, perché Primark mi ha aperto vicino a casa, quindi sono super felice di questo. E ci sono andata già ben due volte. Non ho comprato tanta roba, però quello che ho comprato mi piacerebbe condividerlo con voi. Allora, ragazze, io per oggi vi saluto qui. Vedete un piccolo spoiler di Shein del video haul che vi ho appena registrato, che in realtà volevo inserire in questo unico vlog. Di fatti ci saranno dei riferimenti al vlog che state vedendo, ma lo metterò subito dopo. L'ho dovuto per forza di cose dividere, perché altrimenti mi venivano 30 minuti di video e la mia connessione non è delle migliori, quindi preferisco farvi due video diversi e forse in quello ci aggiungo anche l'haul di Primark se riesco, se non esce troppo lungo. Comunque, detto questo, tantissimo piacere ritornare a registrare, spero di essere un attimino più attiva e ovviamente so che adesso, per adesso non riuscirò come vorrei, ma metà settembre, fine settembre spero di riuscire a ritornare attiva come qualche tempo fa. Detto questo, vi ringrazio per essere stati qui con me, spero che il video vi sia piaciuto, se vi piace qualcosa che ho acquistato e fatemelo sapere giù nei commenti e fatemi sapere qual è il vostro pezzo preferito. Io vi mando un basso e ci vediamo al prossimo video. Ciao!